abbiamo creato il primo taglio quindi unendo due spezzoni dell'intervista andiamo a riprodurre la clip nell'intorno del taglio quindi ci posizioniamo sul taglio utilizzando i tasti freccia sopra e sotto in questo caso il tasto freccia sopra per tornare indietro al taglio precedente andiamo su playback play around to andiamo a premere play around current selection oppure il tasto slash allora come vedete questi tagli fatti sulla stessa inquadratura spesso e volentieri non sono gradevoli vengono chiamati jump cutta e ci sono varie tecniche per risolverlo la prima tecnica che vediamo è l'introduzione dei b roll cioè una sorta di immagini che vanno a coprire la parte video lasciando continuità sull'audio quindi dovremmo andare a inserire un b roll all'interno di questo taglio aprendo un varco e inserendo sempre nella traccia 1 una nuova clip abbiamo visto la funzione override che non fa un inserimento cioè non apre nessun varco ma semplicemente sovrascrive tutto quello che trova nel suo percorso quindi dovremmo utilizzare una seconda funzione di editing ora che si chiama appunto insert allora andiamo a prendere nella cartella delle smart bin i b roll allarghiamo magari lo zoom del media pool per vedere bene i nostri b roll e prendiamo il b roll numero 2 quello dove vediamo bel primo piano di un aereo in fase di decollo facciamo doppio clic per aprirlo nel source viewer e adesso qui possiamo controllare il punto di partenza esatto del nostro b roll allora qui potremmo scorrere il playhead potremmo utilizzare la jog wheel oppure potremmo utilizzare i tasti jkl jkl della tastiera quindi tengo premuto k e tengo premuto j per fare uno slomo indietro tengo premuto k e premo l per fare uno slomo in avanti se tengo sempre premuto k e premo una volta j andrò indietro di un frame alla volta se premo invece una volta due volte tre volte il tasto l sempre con k premuto andrò avanti quindi andiamo a cercare un punto quando le ruote davanti dell'aereo sono ancora appoggiate al terreno torniamo un po indietro ad esempio io sto usando sempre i jkl quindi tengo premuto k e torno indietro premendo una volta j poi vado un po avanti quindi tengo premuto k e premo una volta l ok partiamo dal di qui qui fissiamo un mark in quindi short cut i oppure vado a cliccare sul pulsante mark in quindi fisso il mio mark in adesso andiamo avanti magari utilizziamo la jog wheel questa volta vado avanti vado avanti intanto che non vedo più l'aereo in campo quando sono verso la fine magari utilizzo i tasti freccia a destra e sinistra per spostarmi di un frame alla volta tasto freccia a destra vedete vado avanti di un frame e arrivo al punto in cui l'aereo non c'è più ecco qui fisso mark out quindi premo o oppure premo il relativo pulsante mark out adesso la mia pezzo di clip la marchina e mark out dura 4 secondi e 21 come troviamo scritto quassù in altro adesso facciamo un inserimento al punto di taglio quindi mi devo posizionare con il playhead al taglio esatto quindi con la timeline selezionata mi basta cliccarci sopra oppure cliccare sul playhead premo il tasto freccia in basso per spostare il playhead sul taglio e vado a utilizzare la funzione di insert che si utilizza al pari dell'overwrite ad esempio utilizzando un drag and drop da source viewer a timeline viewer quindi drag and drop verso destra vedete che compaiono tutte le funzioni di editing il default e l'overwrite io vado a prendere insert e quindi viene inserita la clip esattamente al taglio viene aperto un varco di 4 secondi e 21 e viene inserita la clip la clip non ha audio e quindi la traccia audio viene completamente bypassata adesso torniamo indietro di un taglio sulla timeline quindi con timeline selezionata freccia in alto torno al taglio precedente vado a prendere la prima clip è una clip che ha un audio l'audio non mi interessa non lo voglio portare in insert qua dentro quindi cosa devo fare perché se faccio semplicemente un drag and drop io porterò dentro anche l'audio come possiamo semplicemente vedere una volta che lo faccio questa operazione ma l'audio non lo voglio facciamo un control command z possiamo utilizzare questi due bottoni che compaiono quando passo il cursore su quest'area questo è il bottone per trascinare in drag and drop solo il video questo è il bottone per trascinare in drag and drop solo l'audio quindi siccome a me interessa solo il video prendo il video e in drag and drop vado a fare sempre un insert e quindi adesso inserisco tutta la clip senza marchina e mark out quindi viene presa tutta l'interessa della clip e viene inserita in questo punto i modi di utilizzare l'overwrite quindi anche l'insert non si basano solo su un drag and drop che è comunque molto comodo ma si possono utilizzare tramite una toolbar infatti anche qui abbiamo il pulsante insert clip al pari dell'overwrite e c'è anche lo shortcut f9 quindi possiamo utilizzare una o l'altra di queste funzioni ad esempio adesso torniamo indietro facciamo un control command z se non voglio utilizzare questi due pulsanti in drag and drop ma voglio utilizzare o lo shortcut o l'insert clip devo fare una semplice operazione in timeline devo andare a utilizzare questi due pulsanti bordati di rosso questi sono i destination control cioè quali sono le tracce abilitate per l'utilizzo delle operazioni di editing automatiche quindi senza drag and drop quindi sia il pulsante sulla toolbar sia lo shortcut siccome a me non interessa avere video e audio ma solo il video devo andare a disabilitare il destination control sull'audio e per disabilitarlo lo deseleziono quindi non è più bordato in rosso ma ha un background in grigio vuol dire che è deselezionato e c'è selezionato solamente il video quindi a questo punto posso andare a cliccare sul pulsante insert clip e inserisco al pari del drag and drop di prima solamente il video l'insert al pari dell'overwrite non funziona solo sul taglio naturalmente ma anche a metà della clip ad esempio adesso scorriamo con lo slider in basso per spostarci sulla seconda clip andiamo sul punto di taglio finale facciamo un play ecco quando dice shoot it ci fermiamo proviamo a riascoltare questa parte ritorniamo indietro di qualche frame sempre col tasto freccia sinistra in questo caso ok magari qui potrebbe andare bene qui ci fermiamo e qui voglio andare a spezzare la mia intervista qui voglio andare inserire un altro b roll andiamo a prendere la clip maldive quindi su questa proviamo a scorrere la parte interessante naturalmente quando compare l'aereo quindi partiamo da un punto in cui l'aereo sta per entrare in campo sempre con jkl quindi k premuto j e l per andare avanti di un frame o andare indietro di un frame o i tasti freccia destra e sinistra ad esempio adesso torno un po indietro supponiamo di partire dal di qui faccio una marchien e adesso voglio prendere solo tre secondi cioè voglio andare inserire tre secondi della clip qui all'interno per inserire tre secondi vado sulla source viewer scrivo più e appena scrivo più vedete che viene editata la parte che si riferisce al time code del playhead vado ad aggiungere tre secondi scrivo più 300 se scrivo più 300 e premo invio ecco che il playhead si sposta di tre secondi in avanti in realtà si sposta di tre secondi e 0 1 frame perché viene considerato attivo anche l'ultimo frame finale quindi l'ultimo frame finale viene considerato e quindi non avrò tre secondi ma tre secondi 1 lo vediamo cosa succede premo mark out vedete tre secondi e 1 se voglio tre secondi esatti tre secondi esatti è sufficiente tornare indietro di un frame quindi col tasto freccia sinistra oppure tenendo premuto k e premendo una volta j e ripremo o a questo punto la durata è esattamente tre secondi questa clip non ha audio come possiamo vedere anche dall'iconcina sul media pool e vediamo che non c'è la forma d'onda dell'audio direttamente sul source viewer quindi vedete che il destination control sull'audio viene automaticamente bypassato perché non c'è audio e adesso posso andare premere il mio pulsante insert oppure f9 e viene inserita esattamente la mia clip in quella posizione adesso andiamo a fare uno zoom in full extend zoom così vediamo tutta la nostra timeline andiamo all'inizio di tutta la nostra timeline premendo il tasto home o il tasto freccia che punta in alto a sinistra e adesso premiamo il play quindi in questo film making a documentary about how the airplanes changed the world it was really important to go out and shoot the real world se fosse possibile to shoot it we wanted to go shoot it if we couldn't get the shot or the weather wasn't right we would either go back to that location stay at that location longer or it didn't make the movie it was really important every shot was original and that everything was real abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti c'è tanto da fare ma abbiamo visto come andare a inserire dei b roll all'interno del nostro montaggio basato su intervista e abbiamo visto come andare a risolvere il jump cut che si era generato andando a unire due interviste simili quindi sulla stessa inquadratura prossima volta faremo un ulteriore passo avanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti